Ciao a tutti, sono Marta e lavoro per il departmento marketing e sales. Oggi voglio parlare con voi su alcuni punti importanti per considerare quando chiedendo un pump per trasferire chimiche. Quando chiedendo un chimico, è importante avere un pump che assura zero leakage e emissioni. Quindi assurda di scegliere il tipo di pump, siamo specializzati in pump magnetiche, che il design è perfetto per questo motivo perché l'edronic parte della pump è hermeticamente fermata. Scegliere il tipo di pump e il sito di scegliere con il punto di lavoro necessario, quindi determinate la capacità di requisito e poi scegliere una pump che può arrivare a questo punto. Assurda di scegliere il pump con la potenza di motore. In order to do so, you have to consider your requested working point and the specific gravity of the liquid you have to pump. If you have doubts or technical questions, Gemmecotti team of experts is at your complete disposal for the choice of the correct pump. You can write an email to info at gemmecotti.com or call us. Have a nice day, bye! Ciao! Ciao! Ciao!